Le interviste impossibili Paolo Portoghesi incontra Gian Lorenzo Bernini Durante il suo soggiorno in Francia, Cavaliere, al signor de Menard che paragonava le sue opere a quelle degli antichi, lei rispose che la sua reputazione era dovuta soprattutto alla buona stella e aggiunse, se non sbaglio, di essere convinto che una volta morto tale ascendente non avrebbe più agito e di conseguenza la sua buona fama sarebbe diminuita o scomparsa del tutto. A distanza di quasi due secoli dalla sua morte, Cavaliere, che ne pensa di questa sua profezia, di questo suo timore? Dunque, il timore era sincero e non avevo poi tutti i torti. La mia fortuna presso i posteri è stata un po' come il favore dei potenti durante la mia vita, intermittente, con momenti di trionfo e momenti di disgrazia. Avevo torto nel pensare che questa vicenda dovesse concludersi nella disgrazia, mentre ho constatato che ad ogni caduta succede puntuale un risveglio, e poi di nuovo una caduta, e così via, senza che questa spirale, vero, possa arrestarsi. Durante la mia vita il cambio della fortuna coincise con il succedersi dei papi sul trono di Pietro. Era impossibile resistere al terremoto. In pochi giorni travolti dalle stesse amicizie che erano state tanto utili, ci si trovava a dover ricominciare tutto da capo, e non era facile trovare le strade giuste. Ricordo ancora i giorni di terrore dopo l'elezione di Innocenzo X. I barberini furono cacciati. Dovetti difendermi da accuse infamanti ed ebbi l'umiliazione di vedere demolire il campanile incompiuto di San Pietro e la cappella di propaganda fide, ma proprio sotto i miei occhi, a due passi da casa mia. Un altro terremoto fu l'elezione di Innocenzo X I, un sant'uomo, che raccolse tutte le voci infondate delle male lingue e fece ricoprire di un brutto velo di latta anche la statua della verità del monumento di Alessandro VII. Quello che non mi aspettavo di vedere è che gli stessi cataclismi, gli stessi rivolgimenti dovessero avvenire di generazione in generazione anche nelle vicende del gusto e dell'arte, come in una gigantesca girandola. Questa mutevolezza dei gusti, questo movimento continuo, le sembra, cavaliere, un grave difetto degli uomini o un elemento vitale? Ma non c'è bisogno nemmeno di arrivare fin quassù per capire che è una conseguenza inevitabile della vita ed è ciò che di più bello c'è nella vita, ciò che più si rimpiange nel mondo delle ombre. Ma cosa sarebbe del resto la luce senza l'ombra, il giorno senza la notte, la serenità senza l'ira? E quando ero ragazzo le cose che amavo di più erano l'acqua, il vento e il fuoco. Mi fermavo a guardare l'acqua che scorreva, l'effetto del vento sugli alberi, sulle foglie, sui vestiti e passavo davanti a un caminetto ore di stupore e di studio. Le cose che si muovono obbediscono a delle leggi immutabili, di carattere ciclico, proprio come le vicende del gusto. E io studiavo queste leggi che ho applicato poi nelle mie sculture. E' proprio questo tentativo, però, di rappresentare il divenire, il precario, l'incerto che irrita tanto i miei detrattori. Ma in fondo la scultura tende a fissare, a cristallizzare un attimo, congelare una situazione. Non è un controsenso. Faccio adesso l'avvocato del diavolo, voler imprigionare il movimento in una cosa per sua natura immobile. Non è un artificio, una forzatura. Ma è vero tutto l'opposto. Il movimento nella scultura è come la profondità, la terza dimensione nella pittura. È nella capacità di rappresentarlo che si misura la qualità di un artista. Ma non si tratta di una banale questione di imitazione. Quei quadretti fatti a macchina con, come li chiamate, le fotografie che voi fate continuamente, fissano, fissano l'aspetto dei corpi in movimento, ma esprimono solo lo sforzo che si fa per muoversi. Non le leggi del movimento. E io, quando dovevo ritrarre una persona, ne studiamo la fisonomia, e sceglievo per rappresentarla il momento di esitazione, perché sia prima di cominciare a parlare, prima di aprire la bocca. Perché i muscoli sono già in tensione. Il cervello già conosce le parole che la bocca pronuncerà, ma le labbra rimangono ancora socchiose. In questo modo la figura parla. E mentre se venisse rappresentata con la bocca aperta, nel momento in cui sta parlando davvero, sembrerebbe ridicola, come se stesse facendo delle smorfie. L'arte dello scultore, quindi, per lei, più ancora che nella capacità di imitare e di rappresentare, sta nella capacità di osservare e studiare la natura. La natura è cosa ben diversa dall'arte. Pensiamo soltanto alla difficoltà di raggiungere la somiglianza tra un volto vivo, pieno di colore e di sangue, e un busto di marmo bianco, freddo e uniforme. Se qualcuno si tingesse di bianco i capelli, la barba, le sopracciglia, e se fosse possibile le pupille e le labbra, e si presentasse in questo stato, anche quelli abituati a vederlo ogni giorno stenterebbero a riconoscerlo. Quando una persona cade in deliquio, il solo pallore che si diffonde sul suo viso lo rende quasi irriconoscibile. Solo riflettendo sullo scarto tra apparenza e realtà è possibile rendersi conto della difficoltà di raggiungere la somiglianza tra una persona viva e un pezzo di marmo. E talvolta in un ritratto di marmo bisogna raggiungerla, rappresentare qualche cosa che nella natura non c'è. Per rendere il livido che alcuni hanno attorno agli occhi, per esempio, bisogna scavare nel marmo il luogo dov'è questo livido, e ciò per dare l'effetto di questo colore e supplire, vero, con questo artificio al difetto della scultura che non può dare il colore alle cose. L'arte dello scultore sta tutta nel valutare le differenze fra ciò che il nostro occhio vede e la forma reale dei corpi. Ciò che si vede è per lo scultore molto più importante. Uno scultore fa una figura con una mano alzata e l'altra appoggiata sul petto. La pratica insegna che la mano in aria deve essere più grande e più piena dell'altra posata sul corpo. E questo perché l'aria che la circonda altera e toglie qualche cosa alla forma o, per meglio dire, alla massa. I posteri, i cavaliere, l'hanno accusata di essere un barocco, di essere andato contro le regole e l'esempio degli antichi, di essere in fondo un anticlassico. Cosa pensa di queste accuse? Le sembrano giustificate? E questa parola barocco ai miei tempi si usava per le perle scaramazze. Chi l'ha adoperata per le mie opere lo ha fatto per calunniarle. Ma poi è successo che la parola si è rivoltata contro chi ne aveva abusato e oggi mi pare che voi la consideriate come una qualifica positiva. Ciò che è veramente ridicolo è accusarmi di avere abbandonato l'esempio degli antichi. Ma per tutta la vita non ho fatto che studiare i capolavori della scultura antica. Da loro imparai tutto quello che sapevo e se ho raggiunto una maniera personale un modo mio di illuminare il marmo facendolo vibrare e di moltiplicare gli sbattimenti della luce l'ho fatto aggiungendo qualcosa di nuovo a tutto quello che avevo imparato dagli antichi continuando la strada che mi avevano aperto. E quando il re Sole mi chiese consigli per la formazione dei giovani scultori e per la fondazione dell'accademia dissi chiaro chiaro che bisognava partire dai modelli studiarli prima ancora di analizzare la natura. Mettere i giovani fin da principio davanti al vero è come perderli perché in sé il vero è inefficace e meschino e se la loro immaginazione si riempie soltanto di esso mai i giovani potranno produrre qualcosa che abbia del bello e del grande. Vede, vi sono alle volte nel vero alcune parti che dovrebbero essere rilevate e non lo sono. Soltanto chi possiede una buona educazione è capace di superare le anomalie che presenta il vero. Quando ero giovinetto disegnavo spesso dall'antico e nella prima figura che feci ogni qual volta avevo qualche dubbio andavo a consultare come un oracolo lantino e notavo in quella statua di giorno in giorno delle bellezze che non avevo ancora viste e che non avrei mai viste se non avessi maneggiato lo scalpello. Per questo motivo io consigliavo sempre ai miei allievi e a tutti gli altri di non abbandonarsi a disegnare e a modellare senza mettersi quasi nello stesso tempo a lavorare sia di scultura che di pittura alternandola alla creazione e l'imitazione o per così dire l'azione e la contemplazione da cui deriva un grande e meraviglioso progresso. Cavaliere ci parli della sua passione per il teatro purtroppo soltanto una delle sue commedie per di più frammentarie è giunta fino a noi ma i suoi contemporanei ricordano che ogni qual volta lei decideva di dar commedia era per Roma un avvenimento eccezionale non soltanto mondano. Ma che le mie commedie siano andate perdute non è un caso io stesso ne distrussi i libretti in più occasioni erano mucchi di sciocchezze che mi servivano per dire in metafora cose che non avrei potuto dire diversamente senza rischiare guai seri e di guai del resto me ne sono tirati dietro parecchi eh anche solo con questi scherzi certo che nei giorni che precedevano i miei spettacoli a Roma correva il terrore la gente più in vista temeva sempre di ritrovarsi in Berlina ed essere costretta a fare buon viso a cattivo giuoco certo certo che recitare mi piaceva e soprattutto mi piaceva coinvolgere nello spettacolo il mondo in cui ho vissuto questo questo gran teatro del mondo che che anche senza scene recita la sua commedia per ogni dove è e l'uomo di teatro non ha bisogno di inventare granché basta che metta sul palcoscenico uno specchio e subito la gente si diverte perché si rivede con distacco ed è pronta a ridere anche di se stessa salvo qualche brivido di terrore se vede scoperti però i suoi altavini ma il suo teatro cavaliere tendeva a creare situazioni sgradevoli e suscitare la meraviglia non le sembra che sia stata un po' pesante la scena dell'inondazione che fece scappare tutti i terrorizzati più che teatro questa era scenografia esibizione di abilità una specie di stregoneria in grande stile ammetto ammetto che mi ero fatto una fama di mago e questo era molto importante per difendersi dagli attacchi dei nemici per non perdere l'ascendente sul mondo degli artisti e sui cortigiani l'ascendente o egemonia dittatoriale l'ascendente che mi ha salvato dalla persecuzione e dall'oblio quello che è certo è che il mio pubblico mi amava e i miei spettacoli colpivano nel segno entusiasmavano e lasciavano esterrefatti ricordo ricordo nella commedia dei due corrielli per esempio il pubblico vedeva al di là del palcoscenico un altro teatro come un'altra platea su ciascuna delle due fronti opposte del palco stava un presentatore che colloquiava ironicamente con il suo pubblico il gioco degli equivoci era interminabile come una sparata di girandole senza fine la gente era sgomenta e si sganasciava dalle risa nello stesso tempo a un certo punto poi quando arrivava per la morte il riso si tramutava in sudore freddo sembravano dei bambini spaventati da una predica ma allora il suo teatro era prima di ogni altra cosa una fabbrica di stupore di meravigliosi ma lui ma era anche un momento di libertà a teatro come nell'arte del resto la verità poteva filtrare ciò che era proibito pur che fosse dotato di una apparenza abbastanza vaga e remota pur che fosse filtrato in allegorie diventava se non lecito tollerabile pensiamo alla storia del mio gruppo di Apollo e Daphne a un cardinale che se ne dichiarava scandalizzato per la nudità del corpo di Daphne Urbano ottavo rispose coniando dei versi latini che davano una morale edificante alla storia raccontata e ne rovesciavano il significato resta il fatto che questa scena delicata di amore tra due adolescenti ma è molto di più è molto di più amico mio che una scena di amore è la riovocazione di una favola classica di un mito di una tradizione di immagini scolpite nell'antichità ma non c'è anche una memoria sua personale di quel corpo di fanciulla ma certo ma cosa c'entra la mia Daphne rispetto alla mia scultura ha la stessa importanza che può avere un attore rispetto al personaggio di una commedia è un'ombra che fatto il suo turno è tornata nel nulla quello che conta è l'immagine scolpita quel frammento di tempo fermato nel marmo eppure dalla freddezza sconfitta di quel marmo e di tanti altri del resto riemerge un ricordo di quel giovane ardente che lei fu cavalieri è vero che sua madre dovette raccomandarsi al papa perché calmasse i suoi bollenti spiriti che una volta inseguì suo fratello con la spada fin dentro la basilica di Santa Maria Maggiore perché le aveva portato via la fidanzata e pensate che 40 anni dopo dovetti difendere mio fratello per accuse di tutt'altro genere ma è mai possibile che pettegolizzi del genere siano arrivati fino alle vostre orecchie e cosa cosa aggiungono poi alla mia fama eh che sono stato giovane anch'io e di sangue bollente ma da quando Urbano Ottavo volle che io sposassi sono diventato davvero un pater familias esemplare nessuna preoccupazione anche negli anni della vecchiaia fu maggiore di quella di assicurare il benessere dei miei figli di difenderli dai nemici di proiettare su di loro un poco del mio prestigio due delle mie figliole andarono spose a giovani aristocratici e alla mia morte ogni membro della famiglia ebbe un segno tangibile del mio attaccamento oggi la sua strategia di vita sarebbe quella di un arrampicatore sociale ma troppe cose sono cambiate torniamo alla storia perché inugiare sulla cronaca cavaliere non le farebbe giustizia l'architettura per lei fu un secondo mestiere o una vocazione autentica? in principio fu un impegno nuovo imposto dall'alto che mi distraeva dalla mia passione per il marmo ma poi ci presi gusto dopo il baldacchino di San Pietro scoprì quell'architetto nascosto che stava in me che forte dell'esperienza della scultura immaginava spazi non per lo stilatore da disegno ma per la visione dell'occhio che studiava l'effetto dell'architettura in funzione della contrapposizione delle parti degli sbattimenti di luce di illusorie dilatazioni delle dimensioni reali specialmente durante il pontificato di Alessandro VII l'architettura diventò la mia attività prediletta ero tutto preso dai mille progetti che il papa immaginava per trasformare trasformare Roma accanto al suo letto c'era una cassa da morto aperta per ricordarvi quanto poco tempo avesse a disposizione per realizzare i suoi piani e un plastico della città su cui fantasticava continuamente di solito si passava il tempo parlando e tracciando degli schizzi su un quadernetto e spesso si lavorava a quattro mani fu così che nacque il progetto per San Pietro esattamente il progetto presse forma da un dialogo serrato in più riprese il papa avanzava delle ipotesi io cercavo di dar loro una forma architettonica definita che criticavamo insieme così da ogni ipotesi ne scaturiva un'altra che conteneva in sé quanto c'era di meglio nella ipotesi precedente e un nuovo aspetto che ne correggeva i difetti avremmo pensato almeno dieci diversi progetti prima di valare quello definitivo e non ricordo di essere mai stato tanto prezzo da un'idea come in quei giorni ah e volevamo ricomporre in una unità la facciata la cupola e lo spazio antistante correggere i rapporti tra le parti già costruite soprattutto volevamo fare qualcosa di grande non tanto nella dimensione ma nell'effetto e qualcosa che alla folla dei fedeli dei pellegrini desse la sensazione rassicurante di essere compresa abbracciata dalla chiesa ma la nostra opera è rimasta incompiuta pochi lo sanno ma un terzo braccio doveva chiudere il varco troppo largo tra le due ali del colonnato solo così la piazza avrebbe acquistato la sua unità la sua compiutezza ma è vero che la soluzione dell'attacco tra il colonnato e i corridoi rettilinei fu suggerita dal caramuel il teorico dell'architettura obliqua che coso che caramuel ma che il vescovo pasticcione che voleva fare le colonne ovali ma anche lei cavaliere ha fatto dei pilastri a base rombi ma quelli che sostengono queste panzane hanno capito ben poco eh i pilastri e i capitelli rombici hanno un unico scopo quello di non interrompere la continuità della forma ellittica da lontano nessuno si accorge del trucco mentre tutti vedono quella meravigliosa linea su cui l'occhio scorre senza intoppi che fa da base alla grande volta del cielo prima di lasciarla cavaliere vorrei sapere qualche giudizio sul suo contemporaneo Francesco Borromini guardi non mi parli di Borromini perché mi mette subito di malumore io Borromini l'ho aiutato lo conobbi nel cantiere di San Pietro quando era solo uno scarpellino ambizioso che si faceva forte di un certo rapporto di parentela con Carlo Maderno per tentare la scalata verso l'arte e la degnità professionale gli affidai il compito di disegnare il baldacchino il baldacchino di San Pietro e mi accorsi subito che era scrupoloso fino alla mania e attribuiva un'enorme importanza a particolari trascurabili io guardavo all'idea lui si immergeva dentro l'opera come ci si sprofonda in un sogno e magari perdeva di vista la forma schietta che deve risaltare a prima vista e imprimersi nella memoria di chi guarda era talmente calato dentro l'opera che quando si lavorava con lui si aveva l'impressione di essere traditi dall'opera come da un amante in carne ed ossa plagiata da un amico è successo che il baldacchino sebbene sia tutto di mia invenzione alla fine non lo sentivo più mio e mi metteva in soggezione era pur sempre un grande architetto porro mio anche lui odiato e caluniato e poi riabilitato e idolaterato che giudizio dà della sua architetta? io posso capire che piaccia tanto ai moderni perché le sue cose somigliano un po' a quelle che fate voi a distanza di secoli perché voi avete distrutto ogni regola anche quelle sacrosante ma per me resta un buon eretico a cui va sempre preferito un cattolico anche se malvagio riconosco la sua abilità la sua fantasia ma le proporzioni che usava sembrano tratte dal corpo di una chimera piuttosto che da un bel corpo umano ricordano in certi casi perfino l'architettura gotica ma già che a voi sono tornati a piacere persino quei fizzi da Dornetta e quelle architetture spiritate dei secoli bui quindi la vostra proverbiale nemicizia non è ancora finita nemmeno il regno delle ombre vi ha conciliato quella di Borromini è un'ombra che non ho mai incontrato ma forse il suo regno delle ombre è diverso da quello in cui sono capitato io forse ognuno di noi abita nel regno in cui ha creduto e noi credevamo in cose tutte diverse lontane inconfrontabili grazie a tutti